Come puoi capire se un uomo vuole una relazione stabile con te? Intanto è importante sottolineare il con te, perché non è detto che un uomo non voglia una relazione stabile in assoluto. Però, diciamo, il fatto che accetti di avere una relazione stabile è proporzionale al grado di coinvolgimento. Cioè, più lo coinvolgi, più potenziale di coinvolgimento acquisisci, più probabile sarà che lui vorrà una relazione stabile con te. Quindi non è detto che se con te specificamente non vuole una relazione stabile, non lo vuole in assoluto. Devi tenere presente questo, che è solo un'indicazione, il fatto che lui non voglia impegnarsi, del fatto che non hai ancora il potenziale di seduzione giusto. Per cui puoi acquisirlo mandando le opportune stimolazioni, fondamentalmente facendolo innamorare. Se invece di suo manifesta, diciamo, l'intenzione di avere una relazione stabile, come lo manifesta? Beh, ad esempio, non cercandoti esclusivamente per avere una relazione di tipo sessuale, ma cercando di approfondire la conoscenza con te al di là dell'aspetto sessuale. Cercando di, manifestando l'intenzione di coinvolgerti nelle sue amicizie, ad esempio, eventualmente con la sua rete parentale o familiare. Coinvolgendoti in attività che lui fa, dalla palestra piuttosto che, che ne so, a un corso di qualche cosa. Insomma, cercando di renderti parte integrante della sua vita. Questo significa che già di suo vuole comunque impostare una relazione stabile a lungo termine, perlomeno nei tuoi confronti. Se invece ti manifesta soltanto l'intenzione di vederti a livello sessuale, ma non, diciamo, addirittura non si fa neanche vedere in giro con te, significa che non hai nessuna intenzione e probabilmente significa anche che hai già una relazione stabile da qualche parte, quindi è già impegnato fondamentalmente, soprattutto se non vuol farsi vedere in giro. Se invece non hai difficoltà a farsi vedere in giro, ma comunque cerca di evitare di coinvolgerti nella sua vita, significa che non hai ancora il potenziale, devi acquisire potenziale. E per acquisire potenziale devi mandare gli stimoli giusti, devi da un lato, come ho già spiegato in altri video, gratificare la parte logica, cioè non presentandoti come rompipalle, ma nello stesso tempo dando forti emozioni e quindi producendo, andando ad amplificare quelle che sono le sue distonie, le sue emozioni compresse, quindi andando a, diciamo, amplificare tutti i punti distonici attivi, dai rapporti con la famiglia d'origine, quelli con la famiglia acquisita, rapporti effettivi sessuali, l'immagine esterna e l'immagine interna del sé, cioè devi andare a distonizzare, quindi amplificare. In questo modo vai a acquisire rapidamente potenziale di coinvolgimento e devi mettere in atto, diciamo, delle strategie comportamentali che riguardano, ad esempio, il fatto di provocare e poi negare il possesso dello stimolo sessuale, negare, cioè, l'espletazione della sessualità. Devi mettere degli antagonisti, cioè farli intendere che ci sono altri uomini che sono interessati a te, o antagonisti reali o antagonisti presunti, magari ti fai mandare dei messaggi da qualche amico, ti trovi qualche spalla, comunque non ti manifesti sempre disponibile. Quando lui ti propone una data per uscire e tu dici, no, guarda, quella sera lì sono già impegnato, facciamo un'altra sera. In questo modo sono tutte strategie, piano piano, per acquisire sempre più potenziale di coinvolgimento e quindi far sì che lui manifesti piano piano l'intenzione di coinvolgersi sempre di più e di impegnarsi sempre più a fondo con te. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi sul blog www.seduzionevip.com Ciao!